E' un'intervista diversa dalle altre, perché si ufficializza l'addio di Valentino Picozzi in Maglia San Feliciano, vengono rispettati gli accordi d'inizio stagione, era un accordo fino al mese di dicembre, le strade si separano però in ottimi rapporti, testimonianza della tua uscita dal campo, Valentino hai avuto l'incoraggiamento e l'ingraziamento da parte del tecnico, di tutto lo staff tecnico e societario. Sì, abbiamo passato tre mesi con San Felice, all'inizio molto duro, perché in sette partite abbiamo fatto solo tre punti, poi grazie anche al mister che ci ha dato una scossa, perché secondo me siamo ed eravamo un'ottima squadra per la promozione, abbiamo fatto sette partite, sei vittorie un pareggio e penso che sono ottimi risultati in promozione, anche per il San Felice che è un record diciamo ad oggi. E niente, io lascio il San Felice in pratica un po' malincuore, un po' per la scelta mia personale, perché comunque ho delle richieste e valuterò, ad oggi sono un giocatore libero, nel senso che non ancora so dove andrò a giocare. Non ho trovato un accordo per rimanere con il San Felice, purtroppo capisco la società che fa dei sacrifici, però io ho delle esigenze in me personale, non lavoro e sono andato incontro in questi tre mesi alla società, sono fiero di averlo fatto perché ho dato una mano a delle persone, secondo me degli amici che fanno calcio e lo fanno bene. E niente, adesso vado via e non so ancora dove andrò, però ho delle richieste e valuterò un attimo. Piacebbe restare in promozione o allontrarti dal Casertano? Vedremo nei prossimi giorni, vedremo nei prossimi giorni. Sì, vabbè, sicuramente ti farò sapere presto. Io è normale che vorrei salire di categoria, questo è normale, perché non per sottuare e dare la promozione, perché è un campionato abbastanza impegnativo, però personalmente vorrei un attimino cercare almeno un'eccellenza. Se questo non avverrà, delle buone richieste in promozione con squadre che lottano per la promozione e vedremo un attimino e ovviamente valuterò io personalmente per verificare quale è la piazza più importante per fare bene questo, diciamo, fine di campionato. Bocca all'uomo Valentino. Grazie, grazie. Ciao.